Buongiorno, benvenuti sul canale TuttoTech e oggi parliamo di... Vi è mai capitato di leggere su internet, sulle novità di Alexa, quella famosa funzione guard che per adesso Amazon ha abilitato solo negli Stati Uniti? Questa funzione riguarda la possibilità tramite il nostro dispositivo domotico di poter avere in tempo reale una notifica che ci avverte se per caso il nostro dispositivo domotico ha rilevato qualche rumore strano, tipo un rumore di vetri rotti, dei passi, una porta che si chiude, sapendo che io ho uscito di casa, attivo questa funzione, quindi il mio dispositivo sa che io non sono in casa Rumori che non dovrebbero essere presenti all'interno dell'abitazione Purtroppo per adesso non ci sono ancora queste funzioni in Italia, addirittura negli Stati Uniti è stata ampliata questa possibilità con un tipo un Guard Plus e hanno attivato anche la possibilità di avere questo tipo di funzione a pagamento Sui 4,99$ al mese avete tutta una serie di funzioni amplificate sul vostro dispositivo Noi qui in Italia invece no, ci dobbiamo tra virgolette accontentare di un'altra funzione che possiamo utilizzare in tal senso è la funzione Drop In Ma prima di entrarne nello specifico vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere abeltiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video Ma prima di entrarne nello specifico per vedere come attivare il nostro dispositivo domotico e far sì che si riesca a sentire tutto ciò o a vedere, se avete un eco show, tutto ciò che accade intorno al vostro dispositivo vi lancio la nostra sigla Come possiamo fare quindi per far sì che il nostro dispositivo domotico abbia la possibilità di captare tutto ciò che accade attorno a lui Vi basterà semplicemente attivare la funzione Drop In con la quale avete la possibilità di sentire disabilitando il vostro microfono tutto ciò che avviene a questo punto voi direte sì ma questo è un po' spiare le altre persone no, semplicemente perché sul dispositivo che voi attiverete perché avete la possibilità di decidere quale poi vi farò vedere nello specifico come si fa comparirà una luce verde e in più emetterà un suono quindi chiunque nella stanza capirà che quel dispositivo sta facendo qualcosa e se voi siete fuori casa e l'altra persona lo sa ha la possibilità comunque di essere avvertita che si sta attivando certo è che se non lo sa o magari è distratta a fare altro sì potete spiare che cosa sta dicendo nel caso di un eco normale se avete un eco show invece avete la possibilità anche di attivare la fotocamera certo è che o disabilitate la fotocamera del vostro smartphone oppure la persona dall'altra parte sul display dell'eco show vedrà perfettamente il vostro faccione e quindi sarete stati beccati anche voi a parte gli scherzi diciamo che questa funzione torna molto utile se per caso avete una persona anziana che vive da sola magari avete fatto una telefonata per sapere come stava questa persona non risponde e voi avete la possibilità prima di allarmarvi di poter controllare se ci sono rumori ambientali particolari strani tramite il vostro eco show potete vedere se la persona è in casa e sta bene altra funzione avete un bambino volete come i vecchi baby monitor ma in origine c'erano solamente quelli audio quindi avete il baby walkie talkie mi sembra si chiamasse avete la possibilità di attivare questa funzione drop in sul vostro eco e poter sentire il bambino se si è svegliato o sta riposando tranquillamente ma adesso andiamo a vedere con prova pratica come si attiva questa funzione e come poterla utilizzare entriamo nell'applicazione di amazon dalla home page in basso ci spostiamo su comunicazione nel menu comunicazione potete vedere che ci dà la possibilità di effettuare chiamate messaggi drop in e annuncio ciò che interessa a noi è la funzione drop in ci clicchiamo sopra ci chiederà se io che hai il drop in su quale dispositivo vuoi farlo perché vi ricordo che in questo momento io sto facendo il drop in dal mio cellulare simulando che sia fuori casa per verificare cosa sta accadendo intorno all'eco che andrò a selezionare io selezionerò l'eco flex di tania partirà la chiamata dal mio cellulare verso l'eco flex di tania vi ricordo di mantenere questa impostazione microfono disattivato questo bianco sulla destra e l'altoparlante invece attivato in modo tale che noi riusciamo a capire ciò che sta accadendo in quella stanza ma chi è in quella stanza non sentirà noi perché sennò parte una comunicazione a doppio senso vi ricordo nuovamente che dall'altra parte l'eco interessato emetterà una luce verde e quando arriverà la chiamata oltre alla luce verde lampeggiante ci sarà anche una musichetta che avvertirà che si sta operando su quel dispositivo a questo punto possiamo tranquillamente sentire cosa sta accadendo si sentono dei rumori di sottofondo quindi se io fossi fuori casa e sentissi questi rumori potrei se ho delle telecamere attivare la telecamera o comunque potrei recarmi di nuovo presso la mia abitazione per riuscire a capire meglio che cosa sta succedendo potrei anche attivare il microfono e colloquiare con la persona che è in casa certo non ha molta valenza se si tratta di una persona indesiderata diciamo così cosa ben diversa se ho l'eco show si attiva la fotocamera interna dell'eco e a questo punto ho la possibilità anche di vedere ciò che sta succedendo certo non potrò orientare il visuale perché non è mobile però già il fatto di poter vedere a grandi linee o comunque ho la possibilità di poter sentire mi può già allarmare in tal senso cosa diversa se invece volete attivare il vostro drop-in vocalmente quindi se volete fare una chiamata da una stanza all'altra magari come vi dicevo prima per avvertire vostro figlio che la cena è in pronta e vi faccio vedere come drop-in vuoi chiamare con drop-in ecodot di Gaia? eccoflex di Tania o? eccoflex di Tania eccoflex di Tania giusto? giusto come vedete il dispositivo chiamante diventa verde si illumina dall'altra parte è arrivata una musichetta che avverte che stiamo effettuando una chiamata quindi un drop-in funzione molto semplice ma molto utile diciamo che non è proprio come il guard perché la differenza è che il guard vi promette di attivarsi ogni qualvolta sentirà un rumore strano vi invierà una notifica avete la possibilità di sentire quello che sta succedendo in casa e valutare se dover intervenire o meno mentre invece il drop-in vi dà la possibilità se vi va bene di beccare in quel momento un rumore strano oppure se avete necessità di capire cosa stia succedendo in casa vostra perché la persona non risponde a casa o perché magari sapete che per quell'ora qualcuno doveva tornare a casa magari vostro figlio o vostra figlia tornava da scuola volete essere sicuri che sia tornato a casa attivate il vostro eco e da lì potete captare il suono cosa diversa tra virgolette quello che si aggiunge è per quanto riguarda gli eco show gli eco show avendo anche la telecamera potete attivare la telecamera e vedere anche fisicamente in casa che cosa succede certo è che se avete una telecamera di videosorveglianza in casa tutto questo tra virgolette viene magnificato avete la possibilità di effettuare tutto questo con una telecamera a noi sembrava una funzione carina da poter aggiungere al bagaglio di informazioni utili per il nostro eco soprattutto per chi magari lo ha acquistato da poco e non ha smanettato all'interno dell'applicazione ragazzi per questo video è tutto speriamo che vi sia piaciuto questo video e soprattutto sia stato utile anche per i neofiti e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti